Il comune di Cavamanara lancia una seconda fase di test rapidi per la popolazione per fronteggiare l'emergenza Covid. L'iniziativa, che si terrà domenica 10 gennaio, è riservata solo ai cittadini residenti e prevede un contributo da parte dell'amministrazione per abbassare il costo del tampone. Già nel novembre scorso era stato organizzato un primo screening, dato che nel comune dell'Interland Pavese si era registrato un alto numero di contagi da coronavirus. Il risultato del test sarà disponibile in 15 minuti. In caso di positività verrà effettuato il tampone molecolare, che sarà completamente gratuito. Allora, il test rapidi, questa è la seconda ondata. La prima l'abbiamo fatto prima delle vacanze di Natale. Adesso facciamo, visto che a Natale magari ci siamo anche mossi, ci siamo andati a trovare parenti ed amici, sempre nei limiti ovviamente. Però facciamo il 10 gennaio, questa seconda ondata di test rapidi. Si procederà in più rispetto alla modalità di che era accesso normale, uno si presentava e faceva il test. Adesso ci sarà la possibilità di fare una prenotazione. Ricordiamo che questa cosa è a titolo non gratuito, ma il contribuente ci metterà che un cittadino cavese solo 10 euro, perché le restanti 20 euro le metterà il comune. Nel caso in cui dal test rapido emergesse che fosse positivo, allora si procederà con il test molecolare, che verrà fatto a titolo gratuito. Allora, i test rapidi si svolgeranno, come la precedente edizione, a Cavamanara, presso la struttura dedicata all'ATS, ex ASL, e a Mezzanacorti invece vicino al polifunzionale, dalle 10 del mattino fino alle 14 del pomeriggio, grazie anche al supporto della protezione civile e di alcuni volontari civici che ci danno una grossa mano.